Buona giornata amici, bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi è sabato 18 maggio 2024, sono tante tante notizie perché poi il weekend è ricco di iniziative, è in atto la campagna elettorale, questa desta sempre delle polemiche, un confronto serrato tra tutti i candidati, non solo di Fano ma anche degli altri comuni in cui le elezioni sono prossime. Ma passiamo come sempre attraverso l'almanacco del giorno e vediamo di chi è la festa oggi. La festa oggi è di tutti i Giovanni perché si festeggia il nome di Papa Giovanni I, un Papa che visse tra il V e il VI secolo. A dire la verità non si sa molto di lui. Si sa che esigui importanti lavori di restauro nelle basiliche cimiteriali romane, tra cui quella di Nereo e Achilleo, due santi che abbiamo incontrato quando abbiamo festeggiato Santa Domitilla. Beh bene, di Papa Giovanni però si sa che fece un memorabile viaggio a Costantinopoli dove incoronò l'imperatore Giustino nella basilica di Santa Sofia. Tornato in Italia però fu trattenuto da Teodorico che governava a Ravenna, fu trattenuto appunto a Ravenna finché in quella città morì. Beh non si sa tanto di questo Papa, comunque è un santo ovviamente viene così ritenuto dalle cronache vaticane. Vediamo ora le previsioni del tempo. Ecco dalla grafica si desume che sarà una giornata nel compresso bella, bella senza fenomeni da segnalare. Solamente qualche nube in più nel pomeriggio. Le temperature passano dai 13 gradi della minima, stamattina era piuttosto freschino, ma poi si innalzerà nel corso della giornata fino a 22 gradi nella provincia di Pesaro e 25 gradi in quella di Macerata. I venti sulle coste spireranno da una direzione est così come nell'entroterra e il sole, il sole è sorto alle 5 e 39, tramonterà alle 20 e 28, il mare è leggermente mosso. Ed ora vediamo subito le notizie del giorno a partire dal Corriere Adriatico, dove si evidenzia l'esito di un incontro che c'è stato tra i sindacati e l'amministrazione comunale per il patto sociale che è in vigore a Tra le Parti. Patto sociale tra comune e sindacati, più agevolazioni per le fasce deboli. E diciamo subito che i sindacati hanno espresso un giudizio tutto sommato positivo dell'opera dell'amministrazione comunale in senso sociale fatta nell'ultimo esercizio. L'emergenza abitativa è stata trattata con un finanziamento dato a coloro che difficilmente riescono a pagare l'affitto, perché poi hanno tante altre incombenze e ovviamente il loro reddito non è così sufficiente. Il finanziamento del fondo affitti è riuscito a sostenere un po' queste persone. E poi è stato fatto un aumento per quanto riguarda le fasce di reddito per coloro che hanno dei benefici sull'Atari, la tassa dei rifiuti. E ancora l'esenzione del pagamento della quota IRPEF comunale, come richiesto appunto dai sindacati, per quanto riguarda i redditi più bassi. Sono stati diversi contributi dati alle persone in difficoltà e questo tutto sommato ha dato un giudizio positivo, ha fatto sì che i sindacati dessero un giudizio positivo a quanto operato. Ovviamente c'è ancora molto molto da fare e uno degli obiettivi che in entrambe le parti si sono prefissi è quello di realizzare una casa che possa sostenere la vecchiaia e in modo particolare le patologie di questa vecchiaia. Vedi per esempio l'Alzheimer e questo è un problema sociale che ancora incombe su molte famiglie e purtroppo sono in aumento. Di spalla abbiamo l'ultimo addio che è stato dato ieri nel cattedrale a Fano all'ex sindaco Giuliano Giuliani. Tante le persone che hanno partecipato al rito funebre c'erano gli amici, c'erano i compagni di partito, c'erano gli amministratori, ovviamente il sindaco Massimo Seri in testa con la fascia tricolore a testimoniare il cordoglio ma anche la gratitudine di tutta la città dato a questo personaggio al di là dei partiti, delle differenze per quanto riguarda l'amore che lui ha dedicato alla sua città nel bene e nel male ma soprattutto per la forza con cui ha perseguito questo disegno pensate è stato consigliere comunale per 45 anni, è stato sempre sulla breccia e ha cercato di rendere più bella la sua città. Ci sono stati anche delle testimonianze particolarmente toccante, quella del sindaco e poi anche quella del figlio Matteo e del nipote che hanno così ritratto un Giuliani inedito per i più, quello familiare, quello più intimo, quello di un padre che ha insegnato, che ha anche promulgato quegli ideali che lui ha perseguito per tutta la vita, in entrambe i settori, quello di uomo pubblico e quello anche di professionista avvocato perché gli ideali erano sempre quelli, quelli di giustizia, quelli di decoro, quelli di impegno sociale. Giuliani, un esempio per tutti. E poi abbiamo nella seconda pagina tutto quello che riguarda il giorno dopo, il day after del Giro d'Italia Giro, una grande promozione per Fano, tanto pubblico e lavoro per le attività. Ebbene l'assessore agli eventi e al turismo, Tiene Lucarelli, si è detto entusiasta dopo la tappa e anche l'assessore ai lavori pubblici, Brunori, conquistata da professionalità, corsa e città senza auto. Secondo qualcuno ci sono stati dei disagi, ma abbastanza voglio dire, in modo particolare non tanto per la viabilità quanto per la sottrazione dei parcheggi, perché a un certo punto la città si è quasi fermata per il Giro d'Italia e trovare un parcheggio è stato veramente duro perché poi tutti gli spazi principali sono stati inibiti alla sosta delle auto. Comunque è stata una vetrina straordinaria, una vetrina straordinaria che ha posto le bellezze di Fano, poi i paesi dall'alto sono state veramente eccezionali, alla ribalta di tutta la nazione e anche dell'estero. Una vetrina straordinaria, ha detto Lucarelli, una grande opportunità e un valore aggiunto, tutti ne hanno colto i benefici. Ho verificato con gli operatori che le attività in un centro storico stracolmo hanno lavorato bene per tutto il giorno, per la città è stata una festa coinvolgente. E poi ci sono tutti i particolari dell'organizzazione veramente complessa, difficile, perché poi si è preparata da lungo tempo, quindi è da tempo che le istituzioni ci lavorano, perché chiudere centinaia di strade, la sicurezza, insomma c'è stato veramente tanto da fare. Comunque si è raccolto un buon risultato. E c'è entusiasmo, dobbiamo dire, anche a Mondolfo, perché il passaggio del Giro anche qui ha suscitato tanta soddisfazione. Il Giro a Mondolfo non capitava da tanti anni, da quando la Corsa Rosa, nell'arrivo in Viale Europa, aveva visto vincitore, questo era Marotta, Cipollini, il grande campione italiano. E poi a fondo pagina abbiamo un articolo invece di Fratelli d'Italia, che ritorna sul problema della sicurezza, un problema dibattuto in modo particolare tra Fratelli d'Italia, la Lega e anche Samuele Mascarin nel centro-sinistra. Al commissariato un agente e un impiegato in più. Dice Fratelli d'Italia che non è vero che non è stato fatto nulla, tanto che proprio in questi giorni l'organico del commissariato di Fano è stato incrementato di un agente e di un amministrativo di rinforzo. Bene, benvengano queste ulteriori assunzioni, però un agente e un amministrativo non è che si risolve la situazione. Sì, si è fatto qualcosa, quindi merito a coloro che hanno assunto questa decisione, però Fano ancora merita, merita molto molto di più. Ci vuole un rafforzamento di organico per tutelare veramente la sicurezza, perché poi dobbiamo dire che sia le forze dei carabinieri che quelle del commissariato sono quelle protagoniste in primo piano della tutela dell'ordine pubblico, quindi sono loro che purtroppo si sacrificano in modo più coinvolgente. Resta in evasa la richiesta di innalzare il livello del commissariato di Fano per ottenere un aumento della pianta organica significativo. Ebbè, questo è un problema, è un problema. Comunque devemmo dire che Lucas Filippi, il candidato sindaco del centrodestra, ha promesso, lui almeno lo può fare, se sarà eletto sindaco, l'aumento dell'organico della polizia locale e i vigili urbani possono essere incrementati dal comune. Passiamo ora nell'entroterra. Siamo a Cagli, dove si festeggia la festa della pipa, una tradizione artigianale, questa che nobilita un po' tutto all'entroterra, perché fumare la pipa è sempre qualcosa di particolare, non vorrei dire di snob, però insomma la pipa ha un certo fascino. Infatti il titolo dice il fascino antico della pipa, tramostra mercato e gare a Cagli la festa 2024 con i produttori, professionisti, hobbysti e appassionati. e ci sarà anche la gara perché riesce a fumare più a lungo senza spegnere nel bracere della caldaia della pipa. Insomma, chi tira, chi tira di più. A Fossombrone alvia la qualificazione del palazzo comunale, un palazzo storico, risale al XVI secolo. L'edificio si caratterizza per quel bel aspetto di facciata bugnato, in arenaria e il portico a quattro arcate con alti pilastri. Per gli amanti del turismo, il palazzo comunale di Fossombrone viene indicato come una delle attrazioni marchigiane e insomma abbellisce il centro storico della città metaurense. A Mondolfo nasce la scuola di grafologia, un progetto di alta formazione realizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con la scuola triennale di grafologia, frutto di una collaborazione tra l'associazione Grafema e appunto il Comune. L'annuncio è stato dato da Nicola Barbieri insieme ad altri personaggi, vediamo Anna Landini, Maria Romina Vita e Pierluigi Venturi, in occasione dell'incontro sul tema dall'infanzia all'adolescenza, le difficoltà di apprendimento e di adattamento tenutesi nel Salone Aurora del complesso monumentale di Sant'Agostino, sempre a Mondolfo. Dobbiamo dire che la grafologia a Mondolfo è una materia che si coltiva da tempo e all'insegna di un grande inventore, dobbiamo dire, della materia. Andiamo a Senigallia e vediamo che c'è un'operazione importante portata a segno contro il traffico della droga. Gang della droga sgominata, quattro arresti, stop allo sballo per i parti della Riviera. I pusher domiciliati nelle province di Ancone e Rimini venivano nelle Marche, in modo particolare a Senigallia, ad incrementare lo spaccio della droga, sequestrate, cocaina, ascis ed eroina. Ebbene, in particolare Senigallia è stata oggetto di questo raid delle forze dell'ordine, l'arma dei carabinieri. Ebbene, quattro le persone arrestate, nove le denunciate, al termine di un'operazione che ha permesso di sgominare la banda di spacciatori attivi tra la Riviera e la Ballata. Anche qui un buon segno per quanto accaduto. Volevo farvi notare anche questo articolo che riguarda Ancona, ma riguarda un po' tutte le Marche, perché poi nel porto di Ancona si concentrano viaggiatori che provengono un po' da tutte le località della nostra regione. Ebbene, chi voleva andare in vacanza in Grecia, che è successo? È successo che il traghetto ha dato forfait. 500 persone sono rimaste sul moro. Un caos, una confusione terribile. Stop alla Superfast in 500 a terra. Lasciati soli. Che accoglienza è? Ebbene, per un problema tecnico, la Capitineria di Porto ha fermato il battello. La Superfast che doveva appunto partire per attraversare l'Adriatico. Ebbene, che è successo? È successo che è stata autorizzata a ripartire il giorno dopo. E nel frattempo è successo veramente di tutto, perché i passeggeri rimasti a terra, chi doveva andare a Bari, chi doveva pernottare, trovare un albergo per poi arrivare il giorno dopo, chi rinunciava alle vacanze. Insomma, veramente, per tante ore, la biglietteria del Porto di Ancona è stata veramente un delirio. Per quanto riguarda l'inizio che non c'è stato di questa vacanza, poi alla fine, il giorno dopo, invece, la nave è ripartita. Insomma, anche questo capita per chi deve andare in vacanza e vorrebbe riposare, vorrebbe così divertirsi e invece incontra degli incidenti. Vediamo anche il resto del Carlino, dove l'anticipazione che ha fatto Sara Cucchiarini nel momento in cui è stata presentata la lista del Partito Democratico, ovvero quella che il Comune di Fano è prossimo ad formalizzare l'acquisto in proprietà della caserma Paolini, sembra che venga reso più concreto. Una nuova sede per la Municipale sarà alla Paolini e questo è il disegno dell'amministrazione comunale. La Paolini dovrà ospitare il comando della Polizia Municipale che ora si trova in via Mura Malatestiane. Dovrebbe essere dotato di un parcheggio sotterraneo a servizio appunto dei vigili urbani, ma anche in grado di soddisfare il bisogno di posti auto a ridosso del centro storico, quindi ad incrementare quello del parcheggio nelle cortile della ex caserma. E poi questo nuovo comando dovrebbe essere inglobato nel progetto della nuova Federiciana firmato dall'architetto Mario Cucinella. Una soluzione che darebbe alla polizia locale, che conta 60 agenti, una sede nuova e uno spazio più ampio per ospitare i suoi mezzi. Vedremo se veramente tutto questo verrà alla luce perché della caserma Paolini in realtà si parla ormai da 30 anni, da 30 anni. Domani arriva a Fano il vicepremier Antonio Tajani, sarà intorno alle ore 17 al Pesce Azzurro e beh, candidato anche lui alle elezioni europee per Forza Italia, capolista anche nella circoscrizione centro e quindi parlerà al pubblico. E poi il resto del Carlino dà notizia di un convegno con la presenza del Vescovo Monsignore Andrea Andreozzi sul tema vita nascente, aspetti teologici, medici, etici e giuridici. Un convegno formativo promosso per questa mattina comincerà tra breve, alle ore 8 e poi durerà fino alle 14 nell'ex seminario di Via Roma promosso dall'Ordine dei Medici di Peser Urbino con il patrocinio dell'AMCI, Medici Cattolici, appunto, della nostra provincia. I lavori congressuali introdotti dal Vescovo vedono tra i relatori il ginecologo Alessandro Cecchi, direttore del centro diagnostico prenatale di secondo livello delle Marche, oltre all'organizzatore Giovanni del Gaiso che fa parte del Consiglio dell'Ordine dei Medici. E a proposito di sanità, vediamo anche un articolo a fondo pagina perché da questa mattina il Rotary Club di Fano organizza un'iniziativa che fa ormai da diversi anni, ovvero quella delle visite graduite per vedere che appunto sono i nei sulla pelle delle persone. sappiamo che i nei possono degenerare e provocare delle brutte malattie. Sono inoffensivi generalmente però qualche volta creano diversi problemi. Allora, lotta ai tumori della pelle. Al via la campagna controlla i tuoi nei. L'appuntamento è per oggi e domani dalle 9 alle 13 a Palazzo San Michele. Però vi devo dare una brutta notizia. Cioè, le pronotazioni sono ormai tutte esaurite. si sono esaurite e mezz'ora dopo che la notizia è apparsa sui mass media. Per quanto riguarda, siccome l'organizzazione ha riservato un 50% delle prenotazioni via e-mail e 50% in presenza, non vi rimane che magari andare lì e sperare che arrivi il vostro turno per poter effettuare questa importante visita che spesso salva la vita a delle persone. Giriamo la pagina, parliamo ancora di sanità perché questo è il tema che campeggia nel dialogo, nel confronto della campagna elettorale e a questo punto c'è stato un vero e proprio duello tra Ser Filippi e Minardi. Minardi ha accusato il centrodestra, in modo particolare quello regionale, di tutti i problemi, di tutte le defaianze della sanità fanese, in modo particolare quella dei lunghi tempi di attesa, mentre Ser Filippi in realtà ha ribaltato la medaglia dicendo che il centrodestra è stato quello che ha salvato il Santa Croce e che investirà su questo ospedale per realizzare la nuova palazzina emergenza e urgenza e il nuovo hospital pediatrico per i bambini e le cure pagliative. Tiriamo ancora la pagina, passiamo ad un evento che si organizza nei primi giorni di giugno a Fano ed è quello del Calcio Mercato l'Originale, un programma televisivo che aveva in onda su Sky Sport con grande grandi ascolti. Ebbene, organizzato da Comunica questa iniziativa vede la presenza di illustri relatori e sono a titolo esemplificativo Beppe Bergami grande capitano dell'Inter e poi abbiamo una figura che si è fatta luce proprio in questi ultimi tempi e che è un po' l'immagine di questa nuova trasmissione e Federica Masolini una bella ragazza professionalmente preparata e poi ci sono tanti altri protagonisti che vengono enunciati in questo articolo. Siamo quasi in conclusione rapidamente dunque scorro gli altri articoli 800 pernottamenti in più e il risultato turistico della Colle Marathon è enunciato dal presidente della cooperativa Alberghi Consorziati Luciano Cecchini che evidenzia come gli alberghi il nostro settore ricettivo abbia avuto dei vantaggi da questa iniziativa sportiva il tema della viabilità caratterizza la campagna elettorale di Urbino tra Gambini e Scaramucci e quindi anche qui c'è dibattito mentre per quanto riguarda l'assistenza sanitaria ad Urbino serve un ambulatorio complementare ed è oggetto di una interrogazione fatta dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri e siamo in conclusione non mi resta che augurarvi un buon weekend e darvi appuntamento a lunedì alle 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto